Mario Senior CS60 carrello saliscale di nuova generazione dotato di batteria a sostituzione rapida con comandi facili da comprendere e da utilizzare anche le cinghie di ancoraggio sono ad attacco rapido questo carrello appositamente studiato per il programma per l'asporto di elettrodomestici, mobili e bombele in genere in grado di autocaricarsi nel furgone ed arrivare ad un'altezza di 60 cm le forche stabilizzatrici escono in maniera motorizzata e dispongono di ruote piroettanti per facilitare lo spostamento del saliscale la possibilità di alzare e abbassare il carico permette inoltre di bloccare il carico nel furgone il saliscale è in grado di reggersi ed auto-equilibrarsi in maniera autonoma l'impugnatura ergonomica ed il sistema di sollevamento permettono di affrontare nella massima sicurezza anche scale strettissime e a piede d'oca infine grazie alla particolare struttura del carrello l'operatore può lavorare sempre nella più corretta posizione saliscale Mario in parole povere l'aiutante che hai sempre sognato non ci credi provalo direttamente a casa tua e per maggiori informazioni visita il sito www.mariocarrelli.com oppure telefona al numero 049 87 40 739 il sito www.mariocarrelli.com